Sant'Elpidio al mare, no? Abbiamo il vino, ma soprattutto abbiamo la cuoca, la chef, parliamo in italiano, la cuoca. Barbara, allora ci dai qualche anticipazione per questa serata speciale di Enosofia, tipicità, Grand Tour delle Marche, i tuoi piatti, le tue creazioni? Allora questa sera partiremo con un antipasto, con il tartufo portato da San Mignato, dai nostri amici di San Mignato, con una tartare di gamberi e un'insalatina di polpi, andiamo con il pesce anche se siamo a Sant'Elpidio al mare, poi avremo un secondo, una millefoglie speciale con il pesce azzurro, quindi l'alicio, non so se si dice alicio o alici, ma si è importante mangiarle, patate e stracciatella, poi per finire un bignè alla crema con i frutti di bosco, ma manca il primo, giusto? Manca il risotto, perché mi hanno parlato di questo risotto strepitoso, dico bene? Un risotto che ho chiamato ostriche piatto e un risotto con la pesca Saturnia, le fave di cacao e le ostriche. Le ostriche, vedi, tu chiami le ostriche, arriva lui, Loran, direttamente pescato, direttamente quando si dice dal produttore al trasformatore, al consumatore che sono io. Allora mi dispiace per chi non c'è, ma noi ci siamo. Salute e viva Enosofia!